Dario Fracassi e Cristina Bonacina, marito e moglie di Pontida in provincia di Bergamo, hanno vinto la quinta edizione della Vertical Race, cronoscalato organizzata dall'Unione Sportiva Atli del quartiere di San Polo in collaborazione con Brescia Running e ICS Brescia. 52 partecipanti alla cronoscalata, tutti appassionati di corsa, superi grattacieli. Ho scalato fino ad adesso 43 grattacieli, Empire State Building, 86 piani, 1576 gradini. Ho fatto un po' meno gare rispetto a mia moglie, comunque a New York ho fatto il 22esimo posto sull'Empire State Building. Quinta edizione per l'iniziativa che quest'anno si è spostata alla Torre Cimabue. La Vertical Race come scelta di farla da Tintoretto significava anche inserire dentro il territorio una realtà abbastanza disagiata. Poi aveva acquisito anche il senso di una valorizzazione alla Tintoretto visto che doveva essere demolita, adesso vedremo cosa ne fanno. Comunque anche la Cimabue, fare questa iniziativa nella Torre Cimabue che pure ha tutti i suoi problemi, significa collegarla direttamente con il territorio, quindi ha anche un risvolto di carattere sociale. 18 i piani da risalire in corsa per 450 gradini. È una bella avventura, la consiglio a tutti, è la prova del cuore. È faticosa, comunque bella. Diciamo che alla fine si sente. Spero di riuscire a ritarla l'anno prossimo ma devo prepararmi in un altro modo.